Stai a registrare? Registrare? Sii sto a registrare! Guarda guarda c'è una cosa fissa vedi? Anfaccio a tutti ragazzi qui a Calico bentornati in un nuovo video Oggi stiamo in un vlog assai bello 100 like siamo ospiti a casa sua dopo ci possiamo fare il giretto di casa C'è Yomino Ciao amici E poi Osservare la bandofola Questa è sul codro Codone d'arro bianco Eh ragazzi siamo venuti qua due tre giorni a passare i blue set Ma come fai? Siamo venuti qua due tre giorni a stare accompagnati dal nostro amichetto acido x gabi da Napoli centrale Ma vaffanculo Ma sei razzista? Adesso andiamo a far vedere Io vorrei vedere la cosa più bella di questa casa che appena sono entrato è TADAAA L'albero di Natale L'albero di Natale Aspetta ma avete scolato la pasta? No no è cruda Ma qual è cruda? È cruda Ma assaggiate la stronza No Ma 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 O Ma 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 Eccoci qua tornati No ma che vedi Almeno controllo il telefono Ti vedo ti vedo Acid X Siete in cazzo Gliomino E la di camera che non si vede è nero Eccolo E adesso Acid X farà vedere un bel drift Qua In penna in penna In penna Do not do that at home porco Hands up everybody E guarda la purta parte E tacchè Bastava solo taccio scrinnare Eccolo Holy shit Non sape niente Grazie a tutti per aver assistito All'esibizione spero mi si veda Ma faccio tutta nella lua Ciao amici Ciao Ma Jacopo riesci Ma è stupendo Perché lì non si vede lui Ti giuro rifallo Chi è? Chi è? Chi è? E' partito E' partito Ciao ragazzi Ciao Io sono Io sono Guardate Ragazzi Ragazzi Partitiata di bullying I primi due lanciatori Una dichiarazione importante Perché lei non gioca signor Iomino Vogliamo spiegare al pubblico Per quale motivo non gioca Perché No 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 Spieghiamo un po' il motivo Iomino Le manine Mi faccio vedere queste manine Stamattina ho scontato l'applicatore del telefono a casa Anche l'ho dovuto ricomprare E mi sono fatti i 30 sblevoli Io ho finito i soldi Oh è mancino Fattorina ha fatto È mancino Ha fattorina Ma è mancino È mancino Ma che fai? Lo metti in bocca Ok non basta È mancino Che cosa ne hai messo? Che le esibuzioni di Matteotto Adesso tocca il signor The Game Io punto allo 0-0 1-7-7 Il cameraman è importante Sessione 1-1 Sono arrivato primo 1 Guardiamo la coordinazione L'effetto L'effetto È straico È incredibile È incredibile È incredibile Che hai fatto? È incredibile Ma che era? Ma ragazzi c'è un'ottor cuba Non mi dicevo più Sto cazzo di acidi XO Hai 35 kg? Che scato Zai Che scato Zai Ragazzi se volete davvero fare Dai Fare un video di infusione Non ci leggo Troia Troia Ha detto Fernando Troia Ha detto Dark 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 è tutto E' partito Oh Matteo Che muoveva fa un tiro No 9 Holy shit Basta Sono tre porte Sì questa è tutta tua Tiago 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 Ma non ci passi Vede l'aglia Oh E che c'è sta vista Ma sta maccata Questi qua sono i due grandi campioni Che hanno vinto Con due contro due Contro questi due qua Hanno perso 2v2 Luz Easy Potete dire che ha fatto due morti Chi ha fatto due morti Due morti Qualcuno verrà è morto dopo The game No Tutti due morti Ti ho ucciso Io ti ho ucciso Animale Tu sei morto C'era streaming C'è stato Streaming Clip the Chris Ci vuole un'altra forza per farlo Sto tiro ragazzi Non ve lo consiglio a casa Secondo strike Attenzione Vediamo un cane lupo Molto deluso Palla da 6 Palla da 6 Io me sto dietro Tonnellati vuoi dire Oh io me sto dietro Io vorrei far sentire questo rumore un attimo Tonnellati Sentite Sentite Io me sto dietro Sentite Io me sto dietro Sto di da mozzare Daniele Considerazioni prima dell'ultimo tiro Vi scopo nel culo Va bene Ragazzi Ragazzi questo tiro effetto è solo per voi Vai Ero un po' volgare scusate ragazzi E ragazzi Sì Ma che è Ma come è andato Ma come cazzo Ma hai visto che fa Riga Andiamo a bere I'VE NEVER BEILE I'VE NEVER BEILE Ero un po' volgare scusate ragazzi